Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Guardate che vi ho riportato qui Antonio Ciao ragazzi Oggi stiamo registrando un fantastico dual moto vlog Che non so se avete già visto o comunque lo vedrete Ma in questo video vi parlerò dei miei nuovi jeans Adesso capirete perché Era da un po' di giorni che cercavo dei pantaloni tecnici per la moto Dopo aver provato vari tipi di pantaloni e vari tipi di jeans Ho finalmente trovato, quasi per caso, dei jeans che fanno al caso mio Antonio vieni qua e riprendili Sono dei semplicissimi jeans molto elastici Vedete hanno in vari punti delle parti ristecizzate Quindi praticamente i movimenti delle gambe riescono perfettamente Sono molto molto comodi In più come vedete hanno delle protezioni omologate C.E. che sono removibili Quindi ottime sia per lavarli Sia nel caso si fa un giro in moto e poi si va in albergo Se vogliono utilizzare come dei pantaloni normali vanno benissimo E hanno anche delle protezioni qui per le anche Dopo averli provati mi sono subito innamorato Ovviamente trovate il link in descrizione di questi pantaloni Perché secondo me i rapporti con i prezzi sono eccezionali Costano intorno a 60 euro su Amazon Appunto hanno protezioni sia con le ginocchia sia nelle anche Come vedete rispetto a tanti altri pantaloni tecnici hanno anche un sacco di tasche Tasche laterali qui a metà della gamba Anche le classiche tasche nella parte un po' più superiore Anche sul retro Poi appunto mi hanno sorpreso per la comodità Molto comodi E poi anche esteticamente secondo me sono molto gradevoli Rispetto magari a quei classici pantaloni neri tecnici da moto Che trovo più scomodi e anche magari più brutti da vedere Questi qua sono sicuri Ma anche la sera se si vuole fare una passeggiata Secondo me sono top In questo momento li potete vedere anche con le scarpe da moto Le mie alpine stanno molto molto bene E ve li consiglio Come sempre appunto vi lascio il link in descrizione Se volete provarli su Amazon li provate Se non vi dovessero andare bene voi fate il resto Io ho preso la taglia M Sono alto 1,75 per circa 69 kg Mi vanno leggermente leggermente larghi Però preferisco averceli un po' più larghi anche per il futuro E poi si sta un po' più comodi Ovviamente si può comunque mettere la cintura E niente Quindi per questo breve video su questi pantaloni è tutto Se avete domande fatemelo nei commenti Come sempre lasciate un mi piace per supportare il video del canale E noi ci vediamo nel prossimo video E noi ci vediamo nel prossimo video